Come donna credo di essere stata l'unica al mondo che ha sperimentato la condizione di madre e insieme di non madre, come Gertrude Monaca di Monza nei Promessi Sposi, mai in stato interessante, nessuna gravidanza, né prima né durante la monacale sollellanza. Nella realtà dei fatti storici della Lombardia secentesca e spagnolesca, ero Maria Vittoria, suor Maria Vittoria e da Monaca ho partorito due volte, un figlio nato morto e uno nato vivo, ma sparito nel nulla. Questa o quella, l'una o l'altra che siamo, abbiamo conosciuto una forte passione d'amore. Per un no pilotto che dimorava nel palazzo accanto al convento, è successo che Lundi abbia messo incinta un paio di volte, come Maria Vittoria. Invece come Gertrude, mai messa incinta. E' complicato. Ma che dire, anche noi due eravamo nobili donne e da Novizia ci chiamavano sposine e promesse spose del Signore. E con quel Signore non intendevano né un Renzo né un Don Rodrigo. Però, con la nostra storia, abbiamo ottenuto una bella parte nei promessi sposi. Siamo le vostre monache di Monza? Grazie.